Befana a sottotono, a Cremona, da noi le aziende del settore hanno registrato un calo rispetto a 5 anni fa. Calo pari a un meno 5,2%, passando da 194 a 184, per lo più concentrate nei prodotti di panetteria fresca. È una flessione nettamente più marcata dalla media regionale, che si attesta al meno 1,6%, e di quella nazionale, meno 0,1%. In aumento, invece, anche da noi il numero degli addetti, passati dai 791 del 2014 ai 917 del 2019, con un più 15,9%, molto più della media regionale, più 9,8%, e nazionale, più 9,3%. Secondi dati elaborati da una speciale classifica alla Camera di Commercio di Milano, Mozzabrianze e Lodi, su dati relativi al terzo trimestre 2019, Nella calza le caramelle, 19%, superano il carbone dolce, 15%, ma sono ancora di più quelli che festeggiano con la torta, 23%. In Lombardia, un quinto dall'impresa è gestito da donne, in Italia a Cremona addirittura un quarto.